E se Marcolino invadesse i film? Eccomi là, cioè Alex e i miei tre drughi, cioè Pete, Georgie e Tim. Sono il lupo cattivo! Sto volando, Jack! Tu sei un mago, Harry. Io sono cosa? Un mago, un mago coi fiocchi direi, una volta studiato un pochetto. Capitano Jack Sparrow, se permettete. Non vedo la vostra nave, capitano. La sto comprando. Mai cominciare con la testa, la vittima rimane confusa. Non sente il col... Visto? Però, Marcolino, stavo pensando sul fatto che non abbiamo fatto nessun film dopo del 2010. Va bene, ma chi se ne frega? Va bene, ma si infatti.